Tre minorenni sono stati denunciati alla procura dei minori di Reggio Calabria dai carabinieri di Rizziconi. I tre italiani tra i 14 e i 17 anni, durante l'estate con modalità definite dagli investigatori tipiche delle cosiddette baby gang, si sarebbero impadroniti di un pallone di un campo di calcetto, estromettendo ed allontanando con la forza un gruppo di altri bambini che stava giocando. Era subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri dal momento che era stato riferito che uno dei ragazzi aveva aggiunto alle minacce verbali l'utilizzo di un coltello. Tenuto conto della procedibilità d'ufficio, i tre giovani tutti studenti, alcuni congenitori già noti alle forze dell'ordine, sono stati segnalati alla procura dei minori. In considerazione dell'incremento dei reati commessi da minori, le stazioni dei carabinieri del gruppo di Gioia Tauro hanno programmato una serie di incontri tematici con gli studenti delle scuole, di ogni ordine e grado, durante i quali verranno affrontati alcuni argomenti che coinvolgono direttamente i ragazzi, cioè la sicurezza stradale, il bullismo, l'illecito uso di sostanza stupefacente ed altro.